Ringrazio ovviamente Ferrovie dello Stato, RFI, Sistemi Urbani, tutta la grande squadra delle ferrovie italiane, una grande squadra, una grande azienda, vi devo dire che per fortuna che ci sono, per tanti motivi, non solo perché saranno l'oggetto del desiderio della stragrande maggioranza dei finanziamenti dei recovery fund e del piano del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Italia Veloce ha tanto su tutti i sistemi trasportistici ma sostanzialmente si basa su un'accelerazione e implementazione di tutti gli investimenti ferroviari perché ormai è abbastanza chiaro che sia sul fronte merci e quindi per dare maggiore competitività e velocità alle imprese sia sul fronte passeggeri senza il massimo possibile degli investimenti ferroviari noi corriamo il rischio al nord come al sud di non recuperare alcuni deficit che noi invece abbiamo accumulato negli anni passati. Quindi qual è il disegno, qual è la visione? Io non entro negli aspetti tecnici perché ritengo che come vi dicevo prima Ferrovie dello Stato sia stata già capace di illustrare gli aspetti tecnici più importanti. Io mi soffermo solo sulla visione di città e di trasporto che c'è dietro a questo progetto e alla firma di questo protocollo di intesa e a quello che verrà partorito alla fine dell'attività di 12 mesi del nostro gruppo di lavoro. C'è un'idea di stazioni che sono luoghi di vita e non solo di transito e lo abbiamo visto quando siamo stati obbligati a normare in maniera peraltro anche molto dettagliata le attività nelle stazioni dopo covid. Ci siamo resi conto tutti improvvisamente che le stazioni sono luoghi di vita e più sono belle, più sono vivaci, più hanno al loro interno un contenuto di tipo commerciale, di attrattività e più quei luoghi diventano strumento, porta di accesso affascinante e fascinosa per coloro che vogliono recarsi nelle città. C'è un'idea importante e determinante per Italia Veloce, determinante per il governo, determinante per me di intermodalità. Noi non abbiamo nessuna possibilità di abbattere il livello di inquinamento delle nostre aree e soprattutto del nord. Io sono una donna che vive sulla via Emilia, che ha uno dei nodi ferroviari, vive in una città che ha uno dei nodi ferroviari più importanti del paese, che ha lo snodo nel nord-ovest, tra il nord, il sud, l'est e l'ovest e vi posso garantire che il tema dell'inquinamento è superabile soprattutto anche dagli studi più recenti se si investe tanto e tanto sul ferro. Allora, qui c'è un tema di intermodalità dei passeggeri che garantirà non solo una migliore qualità della vita a bordo e del trasporto per le persone, ma garantirà anche un effetto che ha studiato una delle nostre società in house, RAM, recentemente, un effetto di ricaduta, di ricchezza derivata, che è oltre del 3,5% che ormai è stato dimostrato essere la ricchezza generata dal passaggio dell'alta velocità.